Ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale youtube Dental Care. In questo video vi parlerò degli esami di odontoiatria universitari praticamente e nello specifico quali sono gli esami più importanti che appunto si studiano nel corso dei sei anni di odontoiatria appunto. Facoltà, laurea che prima era appunto di cinque anni adesso appunto è diventata da un po' di anni sei anni praticamente. Prima di iniziare ti invito ad iscriverti al mio canale in modo tale che tu possa sempre rimanere aggiornato su tutti quelli che sono i contenuti che pubblico perché appunto parlo di argomenti di odontoiatria e di medicina a scopo informativo o di mondo universitario e post laurea come cercare lavoro in ambito odontoiatrico e quant'altro. Quali sono quindi gli esami più importanti in odontoiatria? Ovviamente bisogna fare una piccola premessa cioè questa è la mia opinione personale ovviamente, per molti potrebbe essere differente l'opinione e la rispetto ovviamente. Inoltre bisogna anche dire che non ho messo proprio tutti gli esami che ho sostenuto in questo elenco che vedete qui sono praticamente questi due elenchi. Perché questo? Perché ci sono diciamo delle differenze negli esami tra una sede e l'altra cioè per quanto riguarda odontoiatria in Italia da un'università all'altra alcuni esami possono subire delle piccole variazioni, possono cambiare, possono essere diversi, alcuni tipi di esami piccoli in alcune sedi ci possono essere, in altre sedi non ci sono perché ce ne sono altri o hanno dei nomi diversi e così via. Non è come medicina per intenderci dove appunto il programma alla fine è proprio uguale su scala nazionale. Per questo motivo ho messo diciamo gli esami più importanti che si fanno comunque più o meno in tutta Italia in tutte le facoltà e quindi andiamoli un pochettino a vedere. Ho suddiviso l'elenco almeno per la mia università che ho fatto che è a Bari in tre blocchi praticamente. Il primo triennio quindi i primi tre anni gli esami che ho fatto sono quelli che vedete qua principali ovviamente e poi il secondo triennio praticamente. Quindi i primi tre anni e poi gli ultimi tre anni di università. Chiaramente vi devo anche dire che potrebbero essere cambiate le cose perché ovviamente mi sono laureato un po' di anni fa però in linea di massima secondo me saranno sempre le stesse. È chiaro che abbiamo degli esami teorici e degli esami più pratici per odontoriatria. Ovviamente gli esami pratici ai primi anni nei primi tre anni ovviamente non si fanno si fanno appunto degli esami teorici generali tant'è che il primo triennio è quasi più simile a medicina in realtà è a metà strada secondo me tra medicina e farmacia per esempio come tipo di esami perché appunto sono degli esami medici o scientifici generali però dove si fanno veramente pochissimi esami di odontoiatria. Poi diciamo dopo il terzo anno dal quarto anno quindi quarto anno quinto anno sesto anno si entra un pochettino più nel vivo e si fanno appunto degli esami un pochettino più specifici e un pochettino più odontoriatrici appunto. Però il primo triennio diciamo è fatto in questo modo. Gli esami teorici ovviamente perché si fanno? Perché ovviamente servono per fornire le basi. Spesso diciamo queste queste parti teoriche che vengono studiate non sempre si utilizzano cioè magari poi quando andrete a lavorare con odontoriatri nella pratica clinica nello studio tutte le nozioni teoriche che avete studiato magari non vi capiterà di utilizzarle però vi posso garantire che ci saranno cioè non le utilizzerete tutti i giorni ma ci saranno delle occasioni tipo una volta all'anno che le dovrete utilizzare quindi quei concetti teorici che avete studiato vi torneranno comunque sia utili a vostro vantaggio. Quindi sono utili comunque gli esami teorici poi ci sono chiaramente anche gli esami pratici e andremo a vedere quali sono. Chiaramente quindi iniziamo a parlare di biologia e genetica ovviamente questi due esami sono degli esami ovviamente generali che stanno anche a medicina si fanno anche a farmacologia per esempio a farmacia scusate per esempio come facoltà quindi sono degli esami molto generali che forniscono appunto i rudimenti della conoscenza medica quindi la struttura della cellula come composta tutta la citologia cellulare poi anche le proteine la struttura delle proteine i lipidi eccetera 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 insomma si va un po studiare tutta quella che è la chimica del del vivente diciamo e poi la struttura del dna come funziona il nostro dna il dna mitocondriale e così via e nella genetica ovviamente si vanno a studiare le leggi di mendel e così via molti aspetti di ciò vengono chiaramente come dire studiate in parte chiaramente in maniera molto meno approfondita se ci si deve preparare per il test d'ingresso poi ho dimenticato di scrivere qua lo aggiungiamo adesso c'è diciamo anche biochimica come come esame praticamente biochimica si fa al secondo anno e qui si va praticamente a studiare tutto il metabolismo del nostro corpo come funziona ovviamente questi tre esami biologia genetica e biochimica per fare l'odontoiatra nella pratica clinica ovviamente non sono utili ma servono appunto a comprendere ad avere le basi per poter affrontare gli argomenti diciamo più odontoiatrici successivamente perché poi oltre a biochimica si fa anche chimica che non ho messo qui e quindi anche chimica è molto importante perché per esempio chimica permette di comprendere appieno diciamo la struttura di alcuni materiali odontoiatrici che vengono utilizzati la chimica importante per un odontoiatra perché appunto tutti i materiali che vengono utilizzati è chimica pura quindi bisogna conoscere le proprietà di questi materiali biologia genetica comunque servono più che altro come base per andare a comprendere poi la patologia orale quindi per esempio alcune malattie ereditarie che danno alcune malattie genetiche che danno alcune manifestazioni a livello del volto e quindi per quello si studiano anche biologia genetica poi c'è anche fisica biomedica e informatica per quanto riguarda fisica biomedica è anche questo un esame molto generale secondo me l'unica parte più utile nella pratica clinica per l'esame appunto di fisica biomedica è appunto lo studio dei tipi di leve perché appunto la mandibola durante la masticazione appunto si comporta appunto come una leva e quindi studiare la fisica biomedica applicata all'apparato stomatognatico può essere molto molto più interessante diciamo è chiaro che però odontoiatria si studiano anche aspetti di fisica biomedica che si studiano anche a medicina e quindi anche per esempio il lavoro del cuore eccetera 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 informatica è inutile diciamo perderci più di tanto tempo ma alla fine in informatica si studia che cos'è un computer le basi generali alla fine penso che informatica sia un esame utile perché al giorno d'oggi la digitalizzazione degli studi odontoiatrici ovviamente permette per questo motivo appunto per il fatto che gli studi odontoiatrici si stiano progressivamente sempre di più digitalizzando serve appunto saper utilizzare un computer un software e così via poi abbiamo l'anatomia umana del cavo orale è chiaro che un odontoiatra sarebbe una vergogna se non conoscesse comunque l'anatomia di tutto il corpo secondo me quindi essendo anche lui considerato come un medico comunque deve avere una conoscenza generale dell'anatomia della melza del fegato del cuore del rene eccetera 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 e poi è importantissimo però anche fare la parte diciamo di anatomia diciamo di competenza sulla quale vita natural durante un odontoiatra lavora e quindi l'esame di anatomia secondo me è uno degli esami più importanti perché chiaramente per anatomia con anatomia appunto si hanno le basi per poter appunto iniziare entrare nell'ambito medico è proprio l'esame base che si possa fare come magari ingegneria non so l'esame base analisi di partenza dico idem è qui secondo me la stessa cosa è qui è chiaro che è diverso da analisi ovviamente perché per analisi è molto complesso sotto un altro punto di vista per anatomia è tutto un lavoro di nozioni e di memoria ovviamente poi tipo alla mia università si faceva un piccolo esame che si chiamava appunto scienze comportamentali in cui si andava a studiare appunto psicologia magari la psicologia ci permette di avere delle piccole nozioni che ci possono appunto aiutare a comprendere meglio come si sente il paziente in quel momento quando si siede alla poltrona non è che l'odontoiata deve fare lo psicologo però deve comunque capire le emozioni dei pazienti disagi eccetera eccetera statistica medica la statistica medica in fin dei conti vi permette diciamo quando andate a una conferenza che vi fanno vedere dei grafici delle statistiche di uno studio scientifico o appunto quando leggete anche voi un giornale scientifico un scientifico vi permette appunto di assumere quello spirito critico osservazionale di comprendere al meglio determinati grafici su determinate statistiche per esempio il confronto tra pazienti trattati non lo so con allineatore invisibile pazienti trattati con apparecchiature multi bracket magari appunto fanno vedere uno studio dove appunto viene posto un confronto con dei grafici se appunto fate statistica medica all'università un minimo di spirito diciamo come dire critico ce l'avete poi statistica vedete anche per scrivere la tesi perché nella tesi ovviamente si fanno diversi tipi di grafici spesso in alcune tesi si fanno alcune analisi statistiche e così via quindi comunque statistica serve lo stesso e poi anche epidemiologia e organizzazione dei sistemi sanitari comunque l'odontoiatra è sempre un medico e quindi chiaramente deve come dire conoscere come organizzato il sistema sanitario nazionale pur considerando che il 99.1% degli odontoiatri dell'odontoiatria italiana si estrinseca a livello privato solo l'1% lo 0,9% almeno dalle statistiche che aveva il governo un po' di anni fa diciamo che esercitava la sua professione in ospedale però appunto comunque conoscere come è strutturato il sistema sanitario che cos'è l'epidemiologia eccetera eccetera è importante poi si studia ovviamente odontoiatria io lo feci tipo al secondo anno più o meno se non ricordo male la fisiologia umana dell'apparato stomatognatico ovviamente per poter fare fisiologia dovete aver fatto anatomia prima altrimenti avrete un pochettino più di difficoltà perché anatomia studiate appunto come sono fatti diciamo gli organi a fisiologia invece si studia si studia appunto a che cosa servono questi organi quali sono le loro funzioni che svolgono quindi anche qui fisiologia generale quindi capire come funzionano tutti gli organi del corpo umano che uno d'altro secondo me deve comunque conoscere e poi fisiologia dell'apparato stomatognatico e quindi del sistema masticatorio praticamente e questo esame altrettanto è utile perché bisogna capire appunto come funziona la masticazione per esempio e spesso appunto poi nella pratica clinica ci si dimentica proprio di questo aspetto e magari è il motivo questo per il quale diverse otturazioni magari dopo un po di tempo tendono a saltare perché magari causano vanno diciamo un'interferenza occlusale e perché appunto non abbiamo considerato la masticazione l'organo masticatorio è importantissimo conoscere come funziona la masticazione eccetera eccetera poi si studia ovviamente patologia medica generale dove appunto si va a studiare la poptosi la necrosi cellulare la guarigione delle ferite i processi di di coagulazione le alterazioni della coagulazione stessa insomma concetti di patologia medica generali a livello cellulare però non clinico che forniscono le basi per comprendere poi l'anatomia patologica che è diciamo molto più complessa poi abbiamo l'esame di microbiologia in cui si vanno a studiare i principali batteri i principali virus i principali protozoi principali parassiti e miceti anche quindi tutti i vari microrganismi che possono comportare delle patologie nell'uomo e anche questo esame importante chiaro che poi l'odontoiatria ci si sofferma maggiormente sullo streptococcus mutans e magari anche sui batteri della parodontite e della gengivite perché appunto sono quelli che interessano più da vicino l'odontoiatra però una trattazione generale anche su tutti gli altri tipi di batteri virus e altri microrganismi presenti la si fa comunque anche sulla candida per esempio poi c'è l'esame di igiene igiene appunto permette di comprendere quali sono i sistemi disinfettanti come si segue la sterilizzazione e così via quindi secondo me anche igiene è un esame molto importante perché nello studio ovviamente le procedure di sterilizzazione disinfezione eccetera eccetera non le esegue l'odontoiatra le esegue l'aso ma l'odontoiatra deve conoscerle per capire se l'aso le sta svolgendo in maniera corretta e quindi l'esame molto importante però all'università dovrebbe essere orientato prettamente verso lo studio odontoiatrico secondo me tipo la mia università era comunque un bel esame nel senso interessante però era poco orientato verso la pratica clinica era comunque generale e poi almeno la mia università però anche in alcune università in altre sedi diciamo che io sappia non in tutte forse però in alcune si fa principi di odontoiatria odontoiatria preventiva e di comunità questo esame dicendo un esame grande che si fa nei primi tre anni e insieme a materiali dentali diciamo è a patologia orale rappresentano appunto gli unici esami odontoiatrici che si fanno nel primo triennio praticamente perché appunto come avete visto per il resto sono tutti esami medici generali per quanto riguarda principi di odontoiatria in buona sostanza almeno la mia università quello che si faceva è fornire le basi di tutta l'odontoiatria quindi partivano dai richiami di anatomia generale poi successivamente andavano a spiegare in maniera generica ovviamente perché uno studente del secondo anno andare a spiegare non lo so le otturazioni di seconda classe ovviamente era un qualcosa di abbastanza impegnativo quindi sempre con principi appunto non a caso si chiama così l'esame si andava a spiegare in maniera generale che cos'è la carie che cos'è l'odontoiatria conservativa che cos'è l'endodonzia che cos'è la chirurgia orale dare giusto una come dire una visione a 360 gradi molto generale dell'odontoiatria giusto per iniziare a entrare nel campo odontoiatrico e poi si faceva anche una piccola parte di odontoiatria preventiva e di comunità in cui praticamente invece si andava a spiegare la prevenzione della carie la prevenzione della malattia parodontale e così via poi appunto c'è l'esame di materiali dentali però per fare questo bisogna almeno avere delle basi di chimica dove appunto si vanno a studiare i diversi materiali che si utilizzano in campo odontoiatrico e questo è un esame molto importante perché l'odontoiatria diciamo prevede la conoscenza e la gestione il saper usare correttamente determinati tipi di materiali molto spesso l'odontoiatria sbaglia o lavora male se non sa gestire quel determinato materiale se non sa gestire il composito se non sa gestire il materiale d'impronta se non sa quali tipi di materiale d'impronta bisogna utilizzare in determinati casi e così via poi ovviamente c'è l'esame di farmacologia in cui si studiano ovviamente tutti i vari farmaci questo diciamo che è un esame abbastanza tosto secondo me e quindi diciamo che alla fine è impegnativo me lo ricordo ancora molto 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 difficile però è importante perché ovviamente vi dà un'idea generale di tutti i farmaci poi c'è anatomia patologica che appunto almeno nella mia università è stato uno degli esami più importanti dei sei anni perché anatomia patologica vi fornisce praticamente le basi mediche la conoscenza medica vera e propria l'acquisita da questo esame perché praticamente si vanno a studiare tutte le patologie del corpo umano o meglio non proprio tutte perché è impossibile ma le più importanti ma se almeno io ne feci tantissime quindi si cioè avrete proprio una conoscenza delle patologie molto 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 più approfondita e quindi inizierete a capire di più anche di medicina quando sentirete parlare di uno scompenso cardiaco infarto cardiaco insufficienza renale non lo so ictus cerebrale da qui inizierete a capire di che cosa si sta parlando perché prima di anatomia patologica non lo saprete mai se sentirete parlare di tumori delle ghiandole salivari sindrome di siogren e così via anche patologie odontoiatri che noi facciamo nell'esame di anatomia patologica è chiaro che poi in patologia orale queste patologie venivano viste un pochettino di più dal punto di vista clinico però sempre in maniera generale però l'anatomia patologica secondo me è importantissimo quindi per andare a riassumere quali sono secondo me gli esami più importanti nel primo triennio è difficile dirlo ma secondo me i più importanti sono anatomia diciamo umana e del caporale fisiologia umana del sistema stomato ignatico materiali dentali presupponendo che ovviamente ci sia una buona conoscenza di chimica alle spalle e poi diciamo sicuramente farmacologia ed anatomia patologica questi sono gli esami più importanti del primo triennio con l'analisi del primo triennio abbiamo finito praticamente adesso dobbiamo passare ad analizzare il secondo triennio per quanto riguarda il secondo triennio sono di meno gli esami perché appunto quarto e quinto anno almeno alla mia università si facevano esami al sesto anno praticamente si riprendevano random alcuni esami di questi e si andavano a rifare praticamente l'idea la concezione di mettere il sesto anno di odontoiatria è quella appunto di fare in modo che il sesto anno sia pratico dove appunto lo studente deve fare pratica su cose che poi farà in studio ma questo spesso non in tutte le sedi avviene quindi nel sesto anno dovrebbe essere un esame pratico magari il professore dice lo studente fammi notturazione per dire ma questo non accade quindi si rifanno poi al sesto anno alcuni esami random cioè se tipo gnatologia faccio un esempio l'avete fatta al quarto anno almeno nella mia sede universitaria la rifate random al sesto anno andando a rifare l'esame con lo stesso professore dicendoli riportando lo stesso programma e ridicendoli praticamente le stesse cose idem per altre materie per cercare appunto di andare a compensare poi tipo al sesto anno almeno la mia università si faceva un esamone finale che si chiamava terapie odonto stomatologiche integrate dove in buona sostanza quello che si faceva era andare a prendere tutto il programma dell'odontoiatria tutto il programma riassunto accorpato insieme e poi uno studio molto approfondito della patologia orale e quindi si portava questo esamone al sesto anno secondo semestre del sesto anno quindi praticamente alla fine dell'università quando uno magari si vuole laureare si ritrova questo grosso esame teorico che magari li impedisce anche di laurearsi subito nei sei anni rischia magari di perdere pure diciamo tempo io per fortuna riuscire a chiuderlo a luglio del semestre del secondo semestre del sesto anno e a toglierlo davanti però questo esame finale è praticamente il final shot il colpo di grazia che l'università almeno a me nella mia sede a bari ve la dà è chiaro che poi però ringrazia anche questi tipi di esami questi tipi di professori perché comunque ti lasciano il segno dal punto di vista teorico della preparazione teorica della conoscenza delle patologie orali si è molto preparati però dall'altro lato magari al sesto anno secondo semestre uno zi che fare un esame teorico preferirebbe magari appunto andare a fare un esame un pochettino più pratico però ovviamente queste scelte non sono scelte che possono dipendere da noi diciamo e quindi alla fine poi lo studente o meglio il neolaureato deve appunto poi trovare dopo la laurea uno studio in cui andare a fare ovviamente la gavetta come la chiamano qui in italia cioè andare a capire prima che cos'è l'odontoiatria e poi diciamo fare pratica ecco piano piano iniziare a lavorare perché appunto se al sesto anno si fanno ben poche otturazioni ben poche devitalizzazioni ben poche estrazioni è chiaro che poi ci sono problemi chiaramente dopo problemi che chiaramente poi si superano non è quello tipo la mia sede universitaria si si facevano le otturazioni al sesto anno e le devitalizzazioni e le igieni e le estrazioni ma erano veramente poche soprattutto diciamo c'erano diversi problemi interni che chiaramente non vi sto a dire quindi questo impediva di farne tante io tipo nei sei anni di laurea ho fatto tipo al massimo due otturazioni semplici zero devitalizzazioni un'anestesia e un'estrazione dentale e basta per dirvi poi è chiaro che c'erano alcuni studenti invece che si portavano da casa i materiali e riuscivano praticamente a farne tante si mettevano magari intesi con professori di conservativa e riuscivano a farne tante di otturazioni imparavano lì a montare latica e quant'altro chiaramente questi erano molto intelligenti io me ne resi conto troppo tardi quando oramai ero già entrato in tesi con un altro docente comunque tornando all'argomento del video scusatemi il pippone e la digressione questi sono gli esami del secondo triennio gnatologia è molto importante la gnatologia vi fornisce le basi per capire appunto come funziona tutta l'odontoiatria cioè l'odontoiatria non prescinde dalla gnatologia se fate protesi dovete sapere la gnatologia rispettare i suoi principi se fate conservativa dovete rispettare i suoi principi qualsiasi branca della dell'odontoiatria c'è sempre la gnatologia di mezzo quindi non ci si può permettere il lusso di dire no io non sono gnatologo io non ne capisco niente di gnatologia perché è la base anche se hai fatto ortodonzia eccetera 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 poi c'è la chirurgia orale ovviamente anche questo è importante diciamo che sia gnatologia che chirurgia orale si fanno anche delle parti di tirocinio ovviamente che poi ogni atologia vi possono insegnare come scartare un bite come fare una prima visita gnatologica in chirurgia orale invece vi insegneranno quantomeno ad avvitare diciamo la siringa per l'anestesia con la tubo fiala oppure anche a fare delle piccole estrazioni dentali e oppure a comprendere quali sono i pazienti a rischio e come gestirli se alcuni pazienti hanno determinate patologie o assumono determinati farmaci diciamo che dovete capire un po come fare chiaramente diciamo che questa parte è molto importante quella dei pazienti a rischio l'importanza dell'osteonecrosi da bifosfonati che molto spesso viene ignorata quelli che ho messo diciamo con gli asterischi come esami sono quelli ad apprettamento dontoiatrici quindi comunque chirurgia orale è un esame molto 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 importante poi c'è neurologia che rientra un po tra gli esami clinici medici generali comunque l'odontoiata deve capirne qualcosa di neurologia perché diciamo magari la nevralgia del trigemino può avere problematiche non odontoiatriche quindi può avere problematiche neurologiche comunque l'odontoiata deve consultarsi con il neurologo per esempio poi si fa protesi dentale e beh l'esame di protesi forse è uno dei più importanti del secondo triennio perché appunto vabbè farete anche qui sia parte teorica che sia parte pratica però non a caso il corso di laurea di odontoiatria si chiama corso di laurea in odontoiatria e protesi dentale proprio perché la protesi è proprio il cuore del lavoro dell'odontoiatra secondo me è uno degli aspetti più importanti è una delle cose che più si fanno nella pratica clinica secondo me anche dello studio dico proprio perché le dentulia è una problematica comunque abbastanza diffusa all'interno della popolazione quindi andare a sostituire dei denti persi è una cosa che chiaramente serve e richiesta ovviamente quindi l'esame di protesi è importantissimo diciamo che almeno nella mia università tra quarto quinto e sesto anno la protesi veniva suddivisa in tre parti ovviamente tipo al quarto anno noi si faceva che cos'è una protesi in generale come definizione poi si faceva la protesi mobile la protesi fissa quindi la protesi mobile al quarto anno al quinto anno la protesi fissa tipo poi sesto anno se non ricordo male non ricordo più bene si faceva la protesi sui impianti quindi si andava a suddividere il programma di protesi in più parti perché la protesi proprio è complessa anche poi ovviamente c'è l'ortodonzia anche a noi comunque tipo al quarto anno per ortodonzia tipo si faceva tutta la parte sulla crescita craniofacciale la diagnosi ortodontica sia clinica che cefalometrica e così via e poi al quinto anno si faceva la parte di terapia e quindi si faceva terapia ortodontiche fisse terapia ortodontiche mobili chiaro sono principi generali che si possono avere all'università ma ovviamente si è molto lontani dal comprendere appieno poi che cos'è realmente l'ortodonzia cioè si comprendono i principi all'università però quando tipo all'università a me parlavano di ancoraggio massimo medio minimo non capivo niente poi nella pratica clinica quando inizi a stare in studio a vedere che cos'è l'ortodonzia inizi a capire un po' che cos'è il concetto di ancoraggio e così via perché tipo a noi ortodonzia la parte pratica c'era ma era veramente molto carente per esempio perché poi ci sono appunto alcuni ortodontisti che purtroppo per fortuna non lo so sposano solo una scuola ortodontica quindi fanno solo due apparecchi per tutti i pazienti e quindi alla fine non capisci bene che cos'è l'ortodonzia perché l'ortodonzia in realtà è ortodonzia fissa è ortodonzia invisibile è ortodonzia mobile intercettiva quindi come apparecchi mobili funzionalizzanti o funzionali ce ne sono veramente tanti da torino bracco a torino appunto servire in spagna fränkel se non ero in germania era fränkel vabbè non è importante però c'è il fränkel bionator di clark planas in spagna ce ne sono tantissimi ecco perché non si può ridurre l'esame di ortodonzia a poche cose anche le tecniche di ortodonzia fissa ce ne sono tantissime straight wire low friction straight wire convenzionale tecniche altri tipi di tecniche particolari e così via quindi alla fine anche lì sulla fissa è difficile comprendere appieno di che cosa si sta parlando a meno che non si vada proprio a vedere con gli occhi un bandaggio ortodontico a capire bene dal vivo che cos'è un bracket che cos'è una legatura come si posiziona una legatura eccetera 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 quindi è chiaro che l'università vi fornirà delle basi generali secondo me se voi fate una buona università sicuramente dopo la laurea sarete in grado di fare le igieni le otturazioni e quelle più semplici ovviamente e le devitalizzazioni quelle più semplici e le estrazioni dentali non penso che si possa arrivare all'università almeno alla mia no a estrarre le ottavi perché chiaramente già un pochettino più complesso però se avete fatto una buona università almeno queste cose le riuscirete a fare però poi se volete crescere in chirurgia orale per estrarre gli ottavi se volete crescere in protesi se volete crescere in ortodonzia dovrete fare dei corsi poi dopo la laurea dei corsi pratici in modo tale che praticamente questo vi permetta di crescere appunto poi abbiamo la parodontologia che si fa diciamo che nel quarto anno si faceva la parodontologia non chirurgica quindi che cos'è la malattia parodontale quali sono diciamo i batteri che determinano la malattia parodontale che cos'è la placca che cos'è il tartaro e così via la diagnosi parodontale come si fa eccetera 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 e poi praticamente al quinto anno si faceva la parodontologia chirurgica perché al quarto si si faceva fino alla diagnosi alla terapia non chirurgica quindi con l'ablazione del tartaro motivazione l'igiene eccetera poi al quinto anno si faceva la parte di parodontologia chirurgica dove si andavano un pochettino a studiare per esempio il lembo di whitman l'embo di whitman modificato l'embo riposizionamento apicale eccetera 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 poi appunto abbiamo qui ho dimenticato l'asterisco praticamente però anche qui lo dovevo mettere conservativa ed endodonzia sono il cuore dell'odontoiatria secondo me le tre branche base dell'odontoiatria sono conservativa ed endodonzia e protesi conservativa ed endodonzia ovviamente imparerete prima di tutto che cosa è la carie che cosa è la malattia la malattia diciamo cariosa o anche che cosa è la pulpite tutte le patologie pulpari del periapice del dente e poi capirete come si fanno le ricostruzioni dei denti quindi come si ottura un dente i vari tipi di otturazioni l'intarsi che cosa sono per esempio oppure come si devitalizza un dente quali sono le tecniche come fa come si fa diagnosi di carie come si fa diagnosi di pulpite e così via questo è quello che imparerete diciamo da questi due esami chiaramente qui avete la parte teorica e poi la parte pratica che non in tutte le università però è sufficiente spesso è carente quindi spesso si fanno corsi post laurea per questo poi si fa medicina legale del lavoro ovviamente questo esame secondo me medicina legale del lavoro non è un esame clinico ovviamente però un esame importante perché perché oramai si sta sempre andando di più verso la medicina difensiva comprendere quali sono le responsabilità professionali dal punto di vista odontoiatrico e di fondamentale importanza per evitare appunto problemi eccetera eccetera poi appunto abbiamo medicina interna e questo è un altro esame clinico che vi dà le conoscenze generali di alcune patologie sistemiche perché chiaramente è importante conoscere le patologie sistemiche ovviamente medicina orale l'ho saltata dall'elenco ma medicina orale anche qui si studiano per esempio alcune patologie sistemiche che danno effetti sul cavo orale o come appunto riconoscere precocemente un cancro orale o come per esempio riconoscere determinate lesioni legate al pepico penfigoide hpv eccetera 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 quindi comunque importanti malattie infettive quali sono le malattie infettive come si trasmettono poi c'è anche la cardiologia è ovviamente importante capire che cosa è un infarto dal punto di vista si fa già in anatomia patologica però qui lo rifate in maniera un pochettino più clinica chirurgia generale chirurgia plastica anche queste servono comunque dovete capire in chirurgia generale come si fanno alcuni interventi dell'addome giusto per conoscenza generale diciamo che deve avere l'odontodiatra e poi c'è implantologia anche questa almeno la mia università era molto molto carente a noi si arrivano soltanto alla parte teorica però poi la parte pratica diciamo non venne mai fatta e quindi anche per l'implantologia dovete farvi voi dei corsi fatti come si deve per poter appunto crescere bene io chiaramente vi ho fatto diciamo questa rassegna di tutti i vari esami principali e poi quali sono quelli più importanti che si fanno ad odontodiatria quali sono gli esami che si fanno appunto spero che questo video ti sia stato di aiuto chiaro un argomento lungo e per questo motivo ho dovuto fare un video di 30 minuti ho cercato anche di riassumere al massimo non potevo appunto ridurre il tutto a 10 minuti perché appunto dovevo spiegarvi diverse cose è chiaro che chi è uno studente di odontodiatria chi invece ha intenzione magari di fare il test per entrare ad odontodiatria può appunto trovare un'utilità in questo tipo di video se il video ti è piaciuto lascia un mi piace condividilo con altri se vuoi io ti ringrazio ricordati ancora una volta di iscriverti al canale e ci vediamo al prossimo video ciao